Oh mio dio stiamo entrando nelle porte o per meglio dire in questa nuova modalità di Roblox che sta essendo strafamosa perchè è bellissima e paurosissima Veramente tanto Cosa sta succedendo? Allora tecnicamente ora sono insieme ad una signora che non la conosco però salve Allora praticamente siamo qua dentro, allora a parte che Roblox sta diventando veramente un gioco della madonna non ho capito come è possibile Ci crouch, vediamo un attimo cosa possiamo fare qua raga Mi sento completamente fuori di testa perchè io sto seguendo la signora Ma dai ma la signora sa fare tutto Raga possiamo seguirla è bravissima Ah praticamente qua c'è un'altra stanza E si può entrare dentro l'armadio bene Si possono aprire delle cose Io non so che cavolo sto facendo Raga sto sentendo rumori strani Ok ho capito che devo entrare qua dentro raga Oh raga raga Ma io la sto seguendo Il fatto è che non so se sia proprio una buona idea perchè ho paura che lei mi voglia portare verso la morte Raga no Raga no Raga Ok perfetto Ha trovato la chiave per poter aprire la stanza 019 Adesso c'è la stanza 020 Raga mi sto cagando addosso Sta facendo molto brutto Vabbè raga La stanza 021 Se vado ad aprire la stanza 021 tecnicamente dovrebbe uscire qualcosa Esattamente Capire Raga brutto Raga brutto 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 Sta arrivando il tizio brutto Santa Maria delle Mole Sono il 3 scusate ma che caspita è successo Via eh Via Ok Ok no no va tutto bene va tutto bene Ho capito che non devo stare tanto dentro l'armadione Ah frega niente a me io la seguo Io sono quasi morto comunque Perché sta girando Sono morto Sono morto vero Oh siamo vivi Cosa è successo Ah crouch Vai Vai Oh raga 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 Ok Va tutto bene Va tutto bene Cioè stiamo per fare assolutamente Oh no oh no Mi sa che ho sbagliato strada Oh no sono morto Potevo vincere Bene ovviamente scrivetemi nei commenti Se volete vedere altri episodi Di Roblox di questo tipo Perché sono bellissimi Mi piace troppo questo nuovo gioco di Roblox che è uscito Ovviamente iscrivetevi al canale Mi raccomando iscrivetevi E lasciate like Ricordatelo di farlo per favore E scrivetemi nei commenti Se volete appunto giocare di nuovo A questa modalità di Roblox Fighissima Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao